Non riesco, si ricomincia. Ragazzi, che cosa vedete? Una specie di ronin. È un samurai. Qualcuno che parli giapponese? Non negamo che ti chieda. Dimmi che non si è appena espresso in giapponese. So fare tante cose. Wari wari wai, andate oh. Kiziskuris mori wai nai. Flash. Sì, ce l'hai davanti, amico. Tu non sei il flash. Non sei il migliore. Portatemi il flash. C'è un altrimenti in arrivo. Altrimenti la vostra città cadrà. Flash non verrà. E comunque ora, Mifune, ti conviene ringueinare quelle spade prima che qualcuno si faccia male. a cominciare da te, per esempio. Hai di fronte due ombre molto tosti. Cosa ti illudi di fare contro di noi? E con una spada. State bene, ragazzi? Non ci credo. Che diavolo di spada è? Mi resta un giorno. Se Flash non verrà ad affrontarmi, Central City finirà. A Tra poste poi città chiave, ci vediamo. Ancora Mì. Taxe mai.